Nelle nostre esplorazioni del territorio capita di trovare piccole ma preziose eccellenze come il raro miele di Marasca. Fausto Settimi, storico apicoltore del Carso, con questo prodotto ha ottenuto l'ambito riconoscimento di miglior miele d'Italia. Ecco questo qui è il miele di Marasca scientificamente Brunus maleb. Questo albero avrà circa 150 anni, cresce molto molto lentamente, fa pochissimi fiori, va bene, e cioè fa da poco nettare, però è stato questo miele dichiarato il miglior miele d'Italia in assoluto. Il colore è un colore un po' rosso, ambrato, il gusto è particolare, è molto delicato e dà un retrogusto di mandorle amara. Queste sono le caratteristiche di questo miele. È buono? Lascio agli altri giudicare, per me sì. Grazie. 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 Grazie.